Quando si parla di open data nella pubblica amministrazione non si può non citare il cosiddetto principio open by default, che è stata una soluzione trovata dal legislatore italiano per forzare l'inerzia delle pubbliche amministrazioni nel rilascio di dati. Vedete che questa norma che troviamo nel codice dell'amministrazione digitale, cosiddetto CAD, è intitolata, l'articolo 52 è intitolata accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Quindi l'obiettivo di questa norma è incentivare il riuso, il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Guardate come è arrivato l'esilatore a ottenere questo effetto. Dice che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Cosa vuol dire questo si intendono? Vuol dire che le pubbliche amministrazioni, nel momento in cui pubblicano dati e documenti, se si dimenticano, fra virgolette, di adottare una licenza, di rilasciare questi dati e documenti con delle licenze, come ad esempio le credit commons che abbiamo citato, allora il cittadino può utilizzare questi dati e documenti come se fossero stati rilasciati con una licenza open. Quindi è una sorta di presunzione, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Questa è appunto una soluzione scaltra per far sì che le pubbliche amministrazioni che non si vogliono attivare nel applicare le licenze che le dati commons o licenze open ai loro dati, siano comunque in qualche modo portate a lasciare liberamente riutilizzabili i loro dati e documenti. Grazie a tutti.